Continua ad inannellare successi la stagione espositiva di Balsano Expo che lo scorso fine settimana ha registrato il tutto esaurito per Animals, una fiera dedicata alle rarità animali. Animals dimostra che le fiere del settore funzionano molto bene, abbiamo avuto migliaia di visitatori e questo continueremo su questa strada. E proprio quella del mondo animale è una strada che Balsano Expo persegue da tempo con numerosi eventi dedicati. Ovviamente facciamo a dicembre Natura in volo, poi abbiamo a marzo Amico Quattro Zampe che è una fiera dedicata ai cani. Intanto da domani le fiere bassanesi riaprono i battenti con due eventi dedicati all'orientamento scolastico. Sarà una fiera dedicata interamente alla scuola e ai ragazzi appunto sia delle medie che degli superiori. Infatti da giovedì ospitiamo Bassano Orienta e Etex School, due fiere completamente appunto dedicata al settore giovanile. Bassano Orienta con l'orientamento scolastico per le scuole superiori e per l'università e Etex School invece con le aziende che parlano di didattica innovativa del settore. Bassano Orienta apre domani dalle 15 alle 18.30 e da venerdì a domenica dalle 9 alle 18.30 e come tradizione non si rivolgerà solo ai ragazzi. È una fiera dedicata anche ai genitori e agli insegnanti, infatti all'interno ci saranno anche diversi workshop ai quali possono partecipare. Novità di questa edizione 2015 è la presenza in fiera di alcune prestigiose università.